Le sue condizioni sono stabili ma purtroppo molto gravi. Da ieri sera Luigi Santoro, 31 anni, si trova ricoverato presso il reparto di rianimazione del Policlinico di Messina dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo a San Fratello, suo paese nativo. L'uomo, rientrato da qualche tempo a casa dopo aver lavorato a Roma come guardia giurata, poco dopo le 18.30 stava percorrendo in salita la via Normanna all'ingresso del centro abitato di San Fratello. Inspiegabilmente ha perso il controllo della sua moto una Honda Hornet 600 ed è andato a sbattere sul muretto al bordo della carreggiata, poi è finito giù, rotolando nel passaggio pedonale al di sotto della sede stradale. Per Luigi Santoro, che indossava il casco protettivo, l'impatto è stato durissimo. Il fragore dell'incidente ha richiamato l'attenzione dei residenti di quella zona, prontamente scesi in strada per aiutare lo sfortunato Centauro. I primi a intervenire, due giovani del posto, tra questi un soccorritore del 118 fuori servizio che ha subito applicato le prime manovre di rito e allertato i soccorsi. Il medico, giunto poco dopo con l'ambulanza, intuendo la gravità del caso, ha chiesto l'intervento dell'elicottero atterrato nella vicina aerei superficie per il trasferimento immediato dell'uomo al policlinico di Messina. Qui i medici hanno diagnosticato un vasto edema cerebrale, oltre che numerose fratture alle costole varie contusioni, tra cui una particolarmente seria alla zona renale ed escoriazioni su varie parti del corpo. La prognosi è ovviamente riservata, i medici valuteranno col passare delle ore il da farsi. I rilievi del caso sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di San Fratello, giunti sul posto insieme alla Polizia Municipale.